Tutti sentiamo parlare praticamente ogni giorno del PNRR, una grande opportunità per l'Italia, uno strumento che deve far ripartire il nostro paese. E spesso però ci capita anche di pensare ma in fondo a me cosa importa? Nella mia vita impatta, c'entra qualcosa col mio quotidiano, dà una mano a me o alla mia famiglia? Sì, se il PNRR farà quello che deve, se sarà gestito bene dal governo nazionale e dai governi regionali, se sarà capace di costruire quello che è possibile, darà un grande impatto sulle vite di tutti noi. Abbiamo fatto delle stime, sono oltre 700.000 i posti di lavoro che in questi prossimi anni, mettendo a sistema queste risorse, possiamo creare in questo paese. Donne, giovani, persone che hanno perduto il lavoro, opportunità che possono ritornare. Basta mettere tutto questo a sistema. Ecco perché noi abbiamo bisogno di azioni che siano concordate, abbiamo bisogno di strumenti normativi efficienti, abbiamo bisogno di amministrazioni che siano in grado rapidamente di far partire piani, progetti, risorse e bandi. È un lavoro complicato nel quale la competenza, il lavoro di tanti professionisti può servire esattamente a questo. Noi penso che non possiamo perdere questa opportunità. Pensando nei vari settori, che sono quelli del turismo, che sono quelli della nuova economia, che sono quelli delle nuove forme tecnologiche, possiamo trovare attraverso questo strumento delle grandi opportunità. L'impegno di tutti deve essere quindi quello di non perdere l'occasione e di lavorare in questa direzione. Grazie a tutti!